Gana, la cede a scienza che lascia passare Buffandar, dalla distanza risponde Vannucchi viene visto e servito Billy Bok e stavolta Vannucchi gli dice no per ventre che carica al destro, la pizzicata Vannucchi doppio passo e va via, cross in mezzo, pugno, non riesce a girarsi, la Fiorentina non libera crapisto calcia e Vannucchi è strepitoso Corradi cerca a Ceola, ma ha capito tutto Nesi che però poi lancia proprio il numero 7 del Modena che prova dalla distanza, Pessina in angolo ha cerchiato da maglie, rosso-blu, ne esce alla grande, in mucca per tatti, in mezzo c'è tutto, solo Pallini Pallini, Murato, Pallini ancora e Pessina salva il Bologna, 15 secondi dalla fine può partire il contropiede del Torino, è scopertissimo il Bologna tocco per Di Paolo che parte in velocità, lo rincorrono in due, Di Paolo Pessina di piede